siamo in afghanistan abbiamo appena passato la frontiera siamo nel territorio afghano ci stiamo fermando per mangiare qualcosina e poi ripartiamo alla volta di kabul aia tre ori abbandonati Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oggi giornata di registrazione qui a Kabul Prima di iniziare le visite mi devo recare al Ministero della Cultura e dell'Informazione e al Direttorato del Turismo. Sono dei passi imprescindibili prima di visitare l'Afghanistan perché sono questi organismi che devono dare l'autorizzazione e una volta ricevuta è possibile visitare le varie province ma sempre richiedendo un'altra autorizzazione alle province stesse. Grazie a tutti! Sveet! Qual è il nome? Sveet Sveet Sì, è un po' di più. Ci troviamo nel Shur Bazar qui a Kabul e fra un po' ci sposteremo per vedere altri posti della capitale afghana. C'è un po' ci sposteremo per fare un po' ci sposteremo per fare un po' ci sposteremo per fare. Stiamo entrando nel Bird's Market. Stiamo entrando un po' ci sposteremo per fare un po' ci sposteremo per fare un po' ci sposteremo per fare un po' ci sposteremo. Il nome di questo, il nome? Pachar 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 La giornata è quasi volta al termine Ci stiamo recando al Sahi Shrine Una moschea molto carina qui a Kabul Pachar La giornata è la tour Pachar 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 La giornata è iniziale Sono in compagnia con G. Mirzeman, forse il fotografo più famoso d'Afghanistan. Grazie per la visione! Faccio una fotografia con G. Mirzeman e utilizzo ancora le macchine fotografiche a scatole di una volta.